Roberto, mi hai fatto una domanda molto difficile, perché se non c'è l'onestà nella persona non ci potrà essere soluzione a nessuno dei problemi sociali e purtroppo il potere, il sesso e il danaro corrompono qualsiasi uomo per quanto forte sia, per cui è sempre lì il problema, trovare la persona onesta da mettere praticamente in posti di comando, quando una persona onesta la si trova e si vede che la si distrugge sui giornali, sui media, inventando magari degli scandali che non esistono perché dà fastidia, oppure inventando qualsiasi menzogna per poter abbatterlo, è chiaro che abbiamo a che fare con un potere molto più forte. Grazie